Buongiorno ragazzi, gola tagliata albina, gola gialla, questi sono uno degli animali andati a prendere ieri da Reggio, animali di Annalisa Seccani, splendido animale, speriamo quest'anno di fare qualcosa, gli animali sono bellissimi, stupendo animale, questo è quando uno vuole qualcosa, fa di tutto per averli, io sono salito a Reggio, in una giornata, salito, preso gli animali e riuscito, quindi quanto uno effettivamente desidera una cosa, fa di tutto, ma torniamo a noi, torniamo a questo splendido esemplare, stupendo, adesso sembra un po' disorientato perché comunque la giornata in trasportino si fa sentire, poi dopo il video lo mettiamo con calma, una buona alimentazione per una decina di giorni e vediamo che sarà, ritornerà come nuovo, impossibile farlo stare fermo, meraviglioso, maschio stupendo, ringrazio ancora Annalisa per averceli ceduti, se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale, buona giornata amici